Bagno di folla per la chiusura della 39esima edizione di Benevento Città. Spettacolo affidata a Gigi D'Alessio in scena in Piazza Castello in un concerto apprezzatissimo dal pubblico. Tra storici successi e nuove hit, D'Alessio ha dato vita ad una serata coinvolgente in cui non sono mancati momenti di grande intensità. Spettacolo affidata a Gigi D'Alessio in un concerto apprezzatissimo dal pubblico. Spettacolo affidata a Gigi D'Alessio in un concerto apprezzatissimo dal pubblico. Torno qui dopo l'alluvione del 2015, ma oggi siete tutti sorridenti, ne sono felice perché qui mi sento a casa, ha detto. Adesso vedere questa città così bella e sorridente veramente mi riempie pure. Voi sapete tutti che io sono il tifoso del Napoli, ma la mia seconda squadra è il benedetto. E per D'Alessio il sindaco Clemente Mastella annuncia un importante riconoscimento. Insieme a Renzo Arbore nei prossimi mesi riceverà infatti la laurea onoris causa dal Conservatorio Nicola Sala, che ha da poco istituito una cattedra in canzone classica napoletana.